Non c'è pace per le azioni di banchia. Questo lunedì la banca spagnola si ripresentava alle contrattazioni dopo il raggruppamento dei titoli, 100 vecchi in cambio di uno nuovo. Risultato, come sulle montagne russe, dopo aver aperto a 17,2 euro il valore è sceso del 9% per poi risalire del 6. Ed è solo l'inizio. A maggio dovrebbe scendere di nuovo in seguito alla prevista ricapitalizzazione da 15 miliardi e mezzo di euro. Due le fasi. Prima una sottoscrizione di obbligazioni da parte dell'azionista di maggioranza, poi una conversione del debito in azioni, cortesia degli azionisti.